L'ex dittatore argentino Jorge Rafael Vivela è morto alle 6.30 di questo venerdì, aveva 87 anni. Secondo alcune delle sue vittime, come le madri dei desaparecidos, invece, Jorge Vivela era morto da tempo come essere umano. Si è spento nel carcere di Marcos Paz, vicino a Buenos Aires, era detenuto per le atrocità commesse durante il suo regime. L'ex presidente si sarebbe sentito male giovedì sera e non avrebbe voluto cenare. Poi, la morte dopo un ricovero d'urgenza in un ospedale della capitale, era stato condannato a due ergastoli ad oltre 50 anni di carcere per la repressione dei dissidenti durante il suo mandato, dal 1976 all'81, con il ripristino della democrazia in Argentina. Nel 1983 arrivarono i processi alle condanne. Vivela sospese le libertà sindacali e civili ed ammise di essere responsabile della morte di almeno 7.000 persone. I due ergastoli arrivarono da diversi processi, i rimanenti 50 anni da un dramma parallelo a quello dei desaparecidos, il rapimento dei loro figli, decine di bambini nati durante la prigionia e la tortura delle donne, poi dati in adozione a famiglie di militari.